il corso di formazione per selle controllori finalizzato a formare quelle figure che avranno il compito di tenere sotto controllo la popolazione degli ungulati rispettando però un disciplinare stabilito dalla regione campania e per tale ragione è necessario aver seguito un corso di specializzazione per l'ottenimento della qualifica di selettore. Un primo corso si è già svolto lo scorso anno e ha consentito di individuare diversi selle controllori in tutti gli ambiti territoriali di caccia. Anche per l'ATC Salerno 2, aree contigue al parco che comprende anche il Vallo di Diano, sono stati individuati i primi selle controllori che potranno esercitare la caccia agli ungulati con metodi selettivi e quindi nelle zone che vengono individuate come maggiormente popolate da cinghiali e per le quali è necessario avviare le attività di controllo della popolazione degli ungulati a tutela dei cittadini e delle coltivazioni che sono spesso prese di mira e danneggiate dai cinghiali. In totale sono circa 10 selle controllori del Vallo di Diano iscritti all'albo provinciale dei cacciatori di ungulati con metodi selettivi a seguito decreto emesso dalla giunta regionale della Campania il 7 gennaio scorso. Tra questi anche Vincenzo Pulito, componente dell'ATC Salerno 2, su nomine della regione Campania che ha spiegato l'importanza del compito riservato ai sele controllori ma soprattutto la necessità di rispettare regole ben definite. Come selettore e componente dell'ATC Salerno 2, dichiara Pulito, esorto tutti i selettori ad attenersi a quanto riportato nel disciplinare, in particolare in riferimento agli orari di uscita, prenotazione dell'area sull'applicazione X caccia, segnalazione dei capi abbattuti come da comunicazione dell'ATC Salerno. Voglio inoltre ricordare a tutti i cacciatori appartenenti a squadre di caccia, continua Pulito, che così come disposto dal disciplinare per il prelievo selettivo, il selettore può svolgere la sua attività solo dal 1 marzo al 30 settembre e non nei mesi in cui è consentita l'attività alle squadre della caccia imbraccata, ossia a partire da ottobre, rispettando nel contempo il silenzio venatorio del martedì e venerdì e l'orario di caccia consentito, dunque un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto. Vincenzo Pulito ricorda inoltre quali sono le modalità di intervento dei selecontrollori. L'intervento, spiega, può avvenire su segnalazione dove si evidenziano problematiche legate alla popolazione degli ungulati, in piena collaborazione con i carabinieri forestali. A breve, annuncio in conclusione, sarà avviato da parte dell'ATC Salerno un altro corso per formare altri 50 selettori con le domande che si sono aperte il 18 febbraio scorso e pertanto è solo da programmare l'avvio del corso.